Benvenuti, siamo con il professor Salvatore Giuliano, direttore scolastico dell'Istituto Maioranda di Benzi, benvenuto professore. Salve, salve, benvenuto a lei, salve. Professore, stiamo vedendo in questi giorni delle belle foto in cui la ritraggono a combattere con queste famose sedie a rotelle, quelle che sono state tante criticate, ma che voi fate incetta in questi giorni in varie parti d'Italia, l'ultimo sono arrivato a Milano. Ci spiego un attimo cosa vi spinge a raccogliere queste sedie a rotelle che sono state tante criticate? Allora, noi facciamo un passo indietro, le usiamo le sedute innovative da circa, da oltre dieci anni nella nostra istituzione scolastica, quindi vi ricordo che in un evento dedicato al mondo della scuola ne vedi, ce n'erano sei, ne presi quattro e cominciamo a ragionare su un nuovo modo di intendere la pratica didattica quotidiana, introducendo metodologie didattiche innovative che potessero puntare a migliorare gli apprendimenti, intervenendo almeno su tre leve, quelle della collaborazione e cooperazione della creatività. Da oltre dieci anni abbiamo poi iniziato un percorso che ha visto un grosso investimento in termini di tempo, di risorse dedicato alla formazione del personale docente e quindi anche sull'acquisto e sulla dotazione di sedute innovative. Negli ultimi giorni, qualche settimana fa, ho appreso da notizia sul web che in una istituzione scolastica della provincia di Milano c'erano delle sedute che non venivano utilizzate, al che siccome l'istituzione scolastica che dirigo ha la necessità di dotarsene di altre, perché abbiamo registrato un incremento notevole di iscrizioni, ho contattato il collega dirigente scolastico che aveva già manifestato l'intenzione di donarle e da lì nel giro di pochissimi giorni le sedie e oggi sono arrivate a Brindisi. Lei parlava di un approccio che già da anni è utilizzato, ancora prima della pandemia, quindi è un approccio dinamico alla didattica. Ci fa un esempio di come significa modulare la classe utilizzando queste sedie e come cambia l'approccio didattico nelle varie modalità? Va da sé che alla seduta innovativa, per mio modestissimo avviso, ci si deve arrivare avendo effettuato un'attività di riflessione e di formazione, perché altrimenti non cambiano da sole la didattica e nessuno pensi che lo strumento, che sia la sedia, che sia la tecnologia, che sia il tablet, che sia la smart tv, che sia touch, più o meno performante, eccetera, possano da soli cambiare la didattica. La didattica la cambiano perché la fanno loro i protagonisti di sempre, cioè i docenti con i loro studenti. È evidente che alcuni strumenti, fra cui anche le sedute innovative cosiddette, possono rappresentare uno strumento, ma ripeto, è solo uno strumento che deve essere utilizzato, cioè non è lo strumento che fa la differenza, la differenza vanno sempre le persone. È evidente che con quel tipo di sedute si possono favorire momenti di peer education, di apprendimento fra pari, quindi creando dei gruppi omogenei o eterogeni per competenze, creando momenti di collaborazione, di cooperazione. Allora dobbiamo pensare ad una metodologia didattica nuova, differente, che non sia quella che, ahimè, viene da troppo tempo utilizzata non solo nel nostro sistema educativo e formativo, ma anche all'estero, non perché essa non rappresenti punti di valore, di utilità, ma è evidente che la scuola ha a che fare con studenti che sempre più velocemente, che ci piaccia o no, ma questa è la realtà e ogni donna e uomo di scuola questo lo sa bene, cambiano sempre più velocemente i loro modi di relazionarsi, di apprendere, di comunicare, di manifestare i loro pensieri, di essere protagonisti di un loro percorso di apprendimento. E allora ritengo che al di là delle sedute didattiche innovative si debba riflettere su questo. Se si riflette su questo e si assumono atteggiamenti conseguenti, cioè vale a dire si fa attività di formazione, allora in questo caso lo strumento sedia innovativa o sedia con le rotelle come tutti le hanno appellate, rappresentano un utile strumento, ma che rimane strumento, questo voglio dire, e che occorre utilizzare con cognizione di causa, altrimenti diventano degli arredi più o meno belli, più o meno veloci da spostare e in alcuni casi possono anche essere, perché no, elemento di disturbo del dialogo educativo. E tutto qui, ripeto, è molto semplice la questione. Ecco, professore, lei diceva, per sintetizzare il suo discorso, un docente formato all'interno della sua ora di lezione, quella classica, può modulare e cambiare dinamicamente il suo approccio con gli alunni passando da un approccio all'altro utilizzando queste sedie e quindi anche passare a peer education. Però lei parlava di formazione, quindi prima di arrivare all'utilizzo è importante la formazione. Il vostro istituto già da tempo è un polo formativo anche per gli altri docenti. Che significa fare formazione per poi arrivare all'utilizzo di queste metodologie in classe? Eccellente domanda, che significa fare formazione? Allora, come diceva lei, da marzo 2020, quindi periodo pandemico, la nostra istituzione scolastica insieme a tante altre in Italia è stata individuata altre 28-27, è stata individuata come scuola Future Lab, cosiddetta, cioè quindi abbiamo erogato formazione gratuita per i docenti. Bene, da marzo 2020 abbiamo formato ad oggi circa 30.000 docenti di ogni ordine e grado di ogni regione d'Italia. Che cosa è emersa da questa attività di formazione? È emersa forte da parte dei docenti che vi hanno partecipato è evidente, perché abbiamo intercettato quelli che hanno partecipato alla formazione, la necessità di approfondire, in alcuni casi, di comprendere in altri casi, di utilizzare in altri casi ancora, metodologie didattiche che potessero promuovere gli apprendimenti. E quindi si è effettuata attività di formazione con eccellenti risultati, ce l'hanno letto in modo anonimo coloro che hanno partecipato, volta proprio questa attività di formazione a dare strumenti operativi, pratici, che potessero anche addivenire dalla nuova concezione di tempo e di spazio dell'apprendimento. È evidente che quando ti sei posto questo problema e quindi ti sei posto questa domanda di posso io utilizzare delle pratiche didattiche differenti nella mia attività quotidiana, allora vuol dire che si è già a buon livello, si avvia questo percorso in maniera ottimale. E allora la formazione deve essere estremamente, ripeto, volta a dare soluzioni operative, questo ci chiedono i docenti, avendo già molto spesso letto, studiato, approfondito, sostenuto esami anche universitari sulle diverse metodologie e sui diversi principi pedagogici che sottendono questo modo di fare scuola e di promuovere anche momenti importanti di inclusione quando necessario ed è sempre necessario. Allora quando tu fai questo tipo di attività e dai soluzioni risposte concrete abbiamo potuto registrare, ripeto, eccellenti risultati che ci sono stati comunicati dagli stessi docenti, come dicevo, e che hanno tradotto in pratica nel modo più immediato possibile. Quindi hanno speso, mi passi questo termine, le competenze acquisite direttamente a favore dei loro alunni. I risultati, ce lo dicono loro, sono stati eccellenti. Allora, professore Giuliano, questa metodologia permette anche diciamo di valorizzare alcune metodologie, lei faceva prima questo esempio sulla peer education, il cooperative learning, il tutoring, tutte modalità che poi valorizzano anche gli aspetti delle competenze non cognitive, tanto declamate in questo periodo, tant'è che c'è una legge che valorizza queste competenze e promuove già da questo nuovo anno scolastico una formazione per i docenti. Quanto è importante, voi che già lo hanno approcciato, la relazione tra i ragazzi, quindi tra pari e la formazione del docente a valorizzare questa relazione? Allora, ritengo che sia fondamentale. Lei faceva riferimento ad alcune metodologie, e io lo dico spesso quando ho l'occasione di parlare di questo argomento. Tempo fa mi sono cimentato nel fare un elenco, una lettura più o meno approfondita delle diverse metodologie. Sono arrivato a 200, 250, non ricordo più bene, poi alla fine ho detto bene, ok, mi fermo qui e faccio un esercizio successivo. Cerco di capire che cosa hanno in comune queste metodologie didattiche cosiddette propriamente o impropriamente dette innovative. E allora mi sono soffermato su tre elementi che erano quelli che dicevamo in apertura, cioè vale a dire la cooperazione, la collaborazione e la creatività. Allora, al di là della metodologia del nome più o meno accattivante, più o meno simpatico, eccetera, più o meno angolo sassone o meno, allora io ritengo che se ogni docente nella sua attività quotidiana punta a valorizzare uno o più di uno di questi tre elementi, magari tutti e tre, la cooperazione, la collaborazione e la creatività, si ottengono risultati decisamente migliori, ma che risultati si ottengono? Io il risultato lo intendo quello di migliorare, come quello che migliora gli apprendimenti, no? Cioè le scuole devono essere il luogo dell'apprendimento, dove l'insegnamento è sicuramente un percorso, è un processo importantissimo, ma è uno, non può essere il principale, noi dobbiamo far di tutto per promuovere gli apprendimenti, questa è la nostra sfida, questo è il nostro obiettivo, le scuole esistono per questo, per promuovere gli apprendimenti. Chiudiamo con un'ultima battuta, proprio per capire bene quello che lei ci ha detto, quindi possiamo dire, affermare che non esiste un metodo didattico migliore dell'altro, ma esiste un metodo didattico con cui il docente riesce a interagire meglio con la classe, è giusto questa affermazione? Certo, assolutamente sì, guardi i docenti hanno il polso della loro classe, sanno intercettare lo stato d'animo, le passioni, la volontà, la determinazione, la motivazione dei loro studenti e quindi ripeto senza perdersi, che è interessante per carità di Dio sulle diverse metodologie, ma guardate se si interviene su, come dicevamo, su uno di questi tre aspetti o su tutti e tre diventa a mio modestissimo avviso, io guardate, guardi quello che dico normalmente lo dico per averlo osservato, raramente dico secondo me, se le dico questo è perché l'ho osservato in questi anni, si ottengono gratificazioni degli studenti e dei docenti stessi, perché, guardi, ogni docente è il primo a provare soddisfazione nel momento in cui il suo studente ottiene risultati buoni, risultati eccellenti, cioè viene accompagnato verso il successo formativo, verso la realizzazione dei propri obiettivi e perché no anche in futuro dei propri sogni, quindi questo modo di fare, ripeto, gratifica tutto e questo glielo dico perché, perché a me è stato detto dai docenti e l'ho osservato io e mi è stato riferito dagli alunni e dai docenti, quindi è questo, poi al di là di tutte le, ripeto, le indicazioni di sigle, di metodologie cognitive, non cognitive, soft skills, hard skills, va benissimo tutto, però, guardate, interveniamo su queste tre leve e ci abbiamo messo dentro tanta, tanta positività per poter migliorare gli apprendimenti dei nostri studenti. grazie, grazie a voi, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.